Il sindaco Massimo Cialente è un ologramma ad Alfonso, non mi incanta con il suo eloquio tardo ottocentesco, la verità è che nel master plan per il capoluogo L'Aquila c'è poco e non c'è quello che serviva. Torna all'attacco il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, che replica al presidente D'Alfonso che lunedì all'Aquila ha preso parte al consiglio comunale straordinario, dove ha elencato le opere strategiche previste in Abruzzo e nel capoluogo, in un'ottica di una più ampia interconnessione territoriale. Visita tardiva, osserva però De Matteis, visto che al giorno il master plan sarà approvato dal governo e i giochi sono già chiusi. Inoltre, in calza De Matteis, nell'elenco non basta aver aggiunto 10 milioni di euro di piste ciclabili, tanto cara al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, per poter rendere accettabile un master plan non condiviso con il territorio, finanziato, sottolinea De Matteis, ex consigliere regionale, con fondi già disponibili, trovati dal centrodestra di Gianni Chiodi. La riunione in consiglio comunale, ahimè, purtroppo ha sancito in maniera inequivocabile ciò che noi sospettavamo, e cioè che questo master plan per quanto riguarda l'Aquila è davvero inconsistente e per alcuni aspetti anche imbarazzante. Abbiamo appreso finalmente, dopo che il buon D'Alfonso aveva dato per certo che i 20 milioni del centro per le malattie rare della vista sarebbero stati all'Aquila, che sono a Chieti, abbiamo appreso che l'aeroporto dell'Aquila, considerato da lui in una delibera dell'anno scorso come struttura strategica fondamentale per le infrastrutture in Abruzzo, non è finanziato, i soldi per la viabilità all'Aquila vengono da interventi precedenti, per quanto riguarda i 10 milioni dati a Colle Maggio siamo al ridicolo, perché vengono assegnati 10 milioni senza sapere a che cosa debbano servire e via discorrendo, per arrivare fino all'ultima perla che è la mancata approvazione da due anni a questa parte di questa famosa legge l'Aquila-Capoluogo. Noi abbiamo proposto una serie di iniziative che potessero entrare nel master plan in maniera seria. Quali le ricordiamo? Certo, le ricordiamo, anche perché Cialente abbiamo appreso anche dalle parole di Alfonso che mai è stato contattato né mai si è occupato del master plan, anzi tutt'altro perché accettare supinamente queste vessazioni nei confronti della città è tipico solo di Cialente che continua a fare lo zerbino di questa amministrazione regionale, al contrario di quello che faceva in altre epoche.